Ti butto giù da questa dannata balconata ti spezzo in due. Così il deputato repubblicano di New York, Michael Grimm, ha minacciato il cronista Michael Scotto. Colpevole di avere chiesto informazioni sulle presunte irregolarità nella raccolta fondi del suo comitato elettorale, il giornalista ieri ha ricevuto le scuse ufficiali del politico.